Capitolo 39 Conrad invitò a casa Nicole, la ragazza con il cappellino dei Red Sox, a casa nostra. Non riuscivo a crederci. Era strano che ci fosse un'altra ragazza oltre a me. Era metà pomeriggio. Io ero in terrazza seduta al tavolo a dentare un panino quando arrivarono. Lei indossava un paio di pantaloncini cortissimi e una maglietta bianca, gli occhiali da sole poggiati in testa. Niente cappellino. Era chic. Aveva l'abbigliamento giusto. Non come me che indossavo una vecchia maglietta che faceva anche da pigiama. Pensavo che Conrad l'avrebbe almeno fatta entrare e invece rimasero sull'altro lato della terrazza sdraiati sui lettini. Non riuscivo a sentire cosa dicessero, ma lei ridacchiava come una matta. Dopo circa cinque minuti non ne potei più. Andai al telefono e chiamai Cam. Lui rispose che sarebbe arrivato nel giro di mezz'ora, ma in realtà passò solo un quarto d'ora. Entrarono in casa mentre Cam e io discutevamo su quale film guardare. Che film avete intenzione di vedere, ragazzi? Chiese Conrad, sedendosi sul divano di fronte al nostro. Nicole gli sedette accanto e gli si mise praticamente sulle ginocchia. Senza guardarlo risposi, io e Cam stiamo cercando di decidere. Volevo sottolineare che era una cosa tra me e lui. Possiamo guardarlo anche noi? Chiese Conrad. Conoscete già Nicole, giusto? Così tutto d'un tratto a Conrad era venuta voglia di essere socievole quando per tutta l'estate era rimasto chiuso in camera sua. Ciao, disse lei con tono annoiato. Ciao, risposi io, sforzandomi di eguagliare il suo tono. Ciao Nicole, salutò Cam. Avrei voluto dirgli di non essere così amichevole, ma sapevo che non mi avrebbe dato ascolto. Io voglio vedere le iene, ma Belly vuole vedere Titanic. Sul serio? Disse la ragazza e Conrad rise. Belly adora Titanic, dichiarò Conrad, beffardo. Lo adoravo quando avevo nove anni, replica io. Per tua informazione, adesso voglio vederlo per fare due risate. Ero impassibile, non gli avrei permesso di provocarmi ancora una volta di fronte a Cam. Per la verità, Titanic mi piaceva ancora. Come si poteva non apprezzare una storia d'amore sventurata su una nave sventurata? Sapevo per certo che un tempo piaceva anche a Conrad, anche se lui non l'avrebbe ammesso. Io voto per le iene, disse Nicole esaminandosi le unghie. Aveva anche il diritto di voto. E comunque, che ci faceva là? Due voti per le iene, aggiunse Cam. Tu, Conrad? Penso che voterò per Titanic, rispose con aria distaccata. Le iene fa ancora più schifo di Titanic. È sopravvalutato. Lo guardai con gli occhi socchiusi. Sai cosa? Mi sa che voterò anch'io per le iene. A quanto pare sei in inferiorità numerica, Conrad, dissi. Nicole sollevò lo sguardo dalle unghie e ribatte. Allora io scelgo Titanic. Ma tu chi sei? Borbottai sottovoce. Quella ha pure il diritto di voto. E lui allora? Conrad indicò Cam. Scherzavo, amico. Dai, chiudiamola qua, guarderemo Titanic, concluse Cam, togliendo il DVD dalla custodia. Ci sedemmo e guardammo il film in silenzio, a parte la scena in cui Jack è alla prua ed esclama, sono il re del mondo, quando tutti scoppiarono a ridere. Io invece rimasi in silenzio. Circa a metà film, Nicole sussurrò qualcosa all'orecchio di Conrad e poi si alzarono. Ci vediamo dopo ragazzi, disse Conrad. Non appena se ne furono andati, si bilai. Quanto sono disgustosi. Probabilmente sono andati al piano di sopra a darci dentro. A darci dentro? Da che hai imparato a dire darci dentro? Mi chiese Cam divertito. Taci, quella ragazza non ti pareva volgare? Volgare? No, secondo me è carina. Si dà un po' troppo autoabbronzante, forse. Non riuscì a trattenere una risata. Autoabbronzante? E tu che ne sai dell'autoabbronzante? Ho una sorella più grande, ricordi? Rispose sorridendo imbarazzato. Le piace truccarsi? Abbiamo il bagno in comune. Non ricordavo che Cam mi avesse detto di avere una sorella. Beh, a ogni modo si dà davvero troppo autoabbronzante. È arancione. Mi domandò dove abbia messo il suo cappellino dei Red Sox. Brontolai. Cam prese il telecomando e mise in pausa il film. Perché sei così ossessionata da lei? Non sono ossessionata da lei. Perché dovrei esserlo? Non ha personalità. Sembra un automa. Guarda Conrad come fosse Dio. Sapevo che Cam mi stava giudicando per la mia cattiveria, ma non riuscivo a smettere di parlare. Mi guardò come se volesse dire qualcosa, ma non lo fece. Riavviò il film. Restammo seduti sul divano e finimmo di vedere il film in silenzio. Verso la fine sentii la voce di Conrad sulle scale e senza neppure pensarci mi raggomitolai contro Cam. Poggiai la testa sulla sua spalla. Conrad e Nicole scesero al piano terra e Conrad ci guardò un secondo prima di dire «Puoi dire a mia mamma che sono andato a riaccompagnare Nicole?» Sollevai a malapena lo sguardo. «Va bene». Non appena se ne furono andati, Cam si alzò e io feci altrettanto. Fece un respiro profondo. «Mi hai invitato qua per farlo ingelosire?» «Chi?» «Lo sai chi, Conrad?» Sentii il rossore salirmi dal petto fino alle guance. «No!» Sembrava che tutti quanti volessero sapere come stavano le cose tra me e Conrad. «Ti piace ancora?» «No!» Lasciò uscire l'aria. «Vedi, hai esitato!» «Non è vero!» «Avevo esitato? Sul serio?» «Ero certa di no». A Cam dissi «Quando guardo Conrad l'unica cosa che provo è disgusto». Capii che non mi credeva e non ci credevo neppure io, perché la verità era che quando guardavo Conrad provavo un desiderio inesauribile. Lo stesso desiderio di sempre. Di fronte a me avevo un ragazzone a cui piacevo veramente e nel profondo ero ancora cotta di Conrad, ecco la verità. Non lo avevo mai dimenticato. Ero come Rose su quella stupida scialuppa». Cam si schiarì la gola e disse «Presto te ne andrai. Vuoi che restiamo in contatto?» Non ci avevo pensato. Aveva ragione, l'estate stava per finire. Presto sarei tornata a casa. «Ehm, tu?» «Beh, ma sì». Mi guardò come se si aspettasse qualcosa e io per qualche istante non capì cosa. Poi dissi «Anch'io, sì». Ma lo feci troppo tardi. Cam estrasse il cellulare dalla tasca e disse che per lui era ora di andare. Io non lo tratté nì.